L'espresso napoletano è sicuramente uno dei prodotti più ricercati nel panorama sia nazionale che internazionale. Per, diciamo, sottolineare quella che è l'importanza che viene data all'espresso napoletano, io partirei da quella che è la nostra esperienza con l'estero, o meglio l'esperienza che comunque mi ha trasmesso nel corso di questi anni mio padre, che nel 2002 ha iniziato a svolgere il lavoro estero per conto dell'azienda e sicuramente è stato fatto un lavoro molto lungo, molto capillare, ma che ci ha permesso di far comprendere le caratteristiche e le peculiarità dell'espresso napoletano nel mondo. A maggior ragione, diciamo, per dimostrare insomma quello che vi sto dicendo, vi posso riportare anche l'esempio di quello che è successo con il nostro cliente serbo che abbiamo rincontrato nell'edizione del Trieste Espresso del 2018 e che avevamo incontrato l'incirca sei anni fa, quindi tre edizioni prima. Lui è venuto proprio appositamente a cercarci perché era rimasto colpito precedentemente da quello che era il nostro prodotto, dall'espresso napoletano e voleva esportare l'espresso napoletano in Serbia. Nel 2018 abbiamo iniziato questo lavoro in maniera molto capillare su tutto il territorio serbo, con ad oggi grandissimi, ottimi risultati che sono stati conseguiti. C'è anche la mia esperienza personale anche a livello nazionale oltre che a livello internazionale, nel senso che da circa un anno e mezzo, due anni, insieme a un mio collega, mi occupo del mercato del Sud, in particolar modo del mercato pugliese. Anche qui, quando abbiamo iniziato, diciamo abbiamo incontrato delle difficoltà, però facendo però il nostro prodotto abbiamo notato anche la grandissima curiosità che c'era attorno all'espresso napoletano e infatti ad oggi comunque abbiamo ottenuto grandissimi risultati. Siamo riusciti a far comprendere la bontà e le caratteristiche dell'espresso napoletano e ad oggi sono i molti che ci ricercano e ci chiedono, insomma, vogliono inserire il nostro prodotto all'interno dei loro locali. E questo è sicuramente motivo di grande soddisfazione per noi ed è una dimostrazione di come comunque l'espresso napoletano sia un prodotto molto ricercato. Comunque sono ormai tanti anni che facciamo fiere a livello nazionale e internazionale e anche solo per curiosità il caffè si viene a provare perché c'è tantissima curiosità e tantissimo interesse attorno all'espresso napoletano. Grazie a tutti!